Ci sono poche denunce, il problema dell'usura è un problema davvero ancora sommerso, dobbiamo operare perché il sommerso emerga, perché questo secondo me è importante, come diceva Tano Grasso non è il fatto del ristoro, quella è la conclusione di una procedura, ma dobbiamo pensare a chi non ha il ristoro perché non ha denunciato.